E' stato trasportato in elicottero all'ospedale maggiore di Novara il sub che è stato colto da malore oggi nel lago Astresa davanti al verbano Yacht Club. L'allarme è scattato nel pomeriggio. Si tratta di un professionista che svolge lavori su commissione residente a Bolzano Novarese, classe 1978. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo stava lavorando a 50 metri di profondità per sistemare i pesi morti delle boe quando avvertito un malore. Lo ha soccorso il collega che si trovava in superficie, lo ha caricato sulla barca e lo ha portato a riva dove è stato affidato ai sanitari del 118. Vista la gravità delle sue condizioni è stato richiesto l'intervento dell'elicottero che lo ha trasferito in codice rosso all'ospedale maggiore di Novara. Sul posto per ricostruire l'accaduto c'erano i carabinieri della stazione di Stresa.